Reduce dalla bella vittoria esterna per 3-1 sul campo del Montale, il Valle Soverato prepara la prima di ritorno di regular season in casa, ospiterà Martignacco, Valle Soverato terza forza di questo Gironea che affronterà domenica la quarta forza il Martignacco che sappiamo essere una squadra comunque molto ostica da affrontare, un gruppo molto coeso che si sta ben comportando. Sì, è una partita difficile come tutte le partite di questo campionato iniziale, questa fase iniziale in cui ogni palla, ogni punto può determinare un esito piuttosto che un altro, l'abbiamo visto anche nella partita di Montale dove devo dire sono rimasto molto contento perché abbiamo mantenuto un buon livello di gioco e se non fosse stato così la partita non l'avremmo vinta per le qualità di Montale. E la stessa cosa adesso succederà con Martignacco, è una squadra che gioca bene, difende tanto, ti fa rigiocare la palla più di una volta per cui è una di quelle partite che per vincerla bisogna giocare bene. All'andata era la prima partita della stagione fondamentalmente, fu vittoria per il Soverato, 3-1, una partita comunque combattuta perché appunto è una squadra molto combattiva, Soverato che però a distanza di un girone possiamo dire essere cresciuto molto sotto diversi aspetti. Sì, noi siamo migliorati tanto, devo dire che il lavoro che stiamo e le ragazze stanno facendo soprattutto sulla parte del muro difesa, del contrattacco che è la parte su cui abbiamo faticato un po' di più, sta dando dei frutti importanti anche se a piccoli passi. Stiamo metabolizzando alcune situazioni e l'abbiamo visto anche nella partita di Montale. Lo scatto deve essere fatto in quelle situazioni di difficoltà in cui dobbiamo trovare delle soluzioni, nel senso che laddove abbiamo avuto quei problemi, soprattutto fuori casa, nascevano dall'incapacità di trovare soluzioni laddove abbiamo delle difficoltà. Questo con Montale non è successo e devo dire che deve essere di buon viatico anche per le prossime partite che sono molto importanti perché determineranno secondo me le posizioni di classifica. A partire di queste con Martignaco che è una partita in casa che vogliamo vincere per consolidare la posizione ma sapendo che giochiamo di fronte a una squadra con la quale ci vuole la massima attenzione, che ci metterà in difficoltà e quindi una mentalità utile a tirarci fuori da queste difficoltà. Eleonora Muscetti, giovane palleggiatrice del Valle Soverato, domenica inizia il giornale di ritorno della regular season, si affronta Martignaco in casa, una squadra ostica da affrontare, molto combattiva, molto coesa, per voi sarà un banco di prova importante per confermare la bella prestazione di domenica scorsa a Montale? Sì, speriamo di fare bene, comunque è una squadra, come hai detto tu, molto coesa, sono molto forti, sono migliorate tanto, anche loro nel primo girone di andata e speriamo di avere la testa di fare una buona partita come domenica. Tu sei giovanissima, è la tua prima esperienza in questo campionato di A2 con questo nuovo format, con i due gironi, avete affrontato tutte le squadre del vostro girone sin qui, quindi essendo finito il girone di andata, un tuo giudizio, se era un campionato, se te lo aspettavi così difficoltoso, oppure le sensazioni e le aspettative di inizio stagione sono diverse da quelle che stai vivendo adesso? No, allora la mia impressione del campionato comunque è un bel livello, però arrivando comunque da una B2 con giocatrici anche comunque forti, perché anche le mie due ex compagnie di squadra adesso giocano a Ravenna, quindi il livello era già alto, però la palla viaggia molto veloce e quindi bisogna stare sul pezzo. Infine è un giudizio su questo campionato del Valle Soverato sin qui, siete terze in classifica, avete avuto un rendimento medio-alto, vi siete inceppate qualche volta, però la sensazione è che questa sia una squadra che ha ampi margini di miglioramento. Sì esatto, siamo una squadra comunque molto giovane e dalla prima partita secondo me siamo migliorate tanto sotto tanti punti di vista e abbiamo sicuramente tanto da migliorare come le altre squadre, però secondo me siamo già un buon passo.